ma salve siamo nuovamente qui su un video per me di in due e questa volta sarà un po diverso dal solito perché grazie ai vostri commenti su instagram e quindi la possibilità di rispondere a questa cosa faccio sto contenuto in breve ho chiesto quali sono gli errori da non andare a rifare su medin e quindi di conseguenza vi dico io se ci può sta che ogni tanto se fanno ste cose oppure vabbè vi do un commento vi do una risposta a a tutto quanto non recuperare i video vecchi di trick sertone e sì effettivamente è un errore da non rifare perché ci sono parecchi video che possono essere utili quanto effettivamente da sbloccare l'elemento quindi che ne so la forza fulmine la forza fuoco per aumentare i vostri danni oppure c'è quello sui pet che spiega un po tutti i pet qualche video sugli eventi come fa i set di carte ok e altra roba però andiamo oltre allora non sputtanare le pozze saggezza ai primi livelli sono pienamente d'accordo su questo errore da non rifare perché effettivamente non non vi conviene rascia l'ex almeno secondo me io so sempre dell'idea che anche nella serie da zero credo di averlo detto è lasciata quella quel pezzo di clip che secondo me è importantissimo più droppare fare i soldi che rascia l'ex se rascia l'ex solo quando sia l'equip per superare la il punto dove siete fermati e ci avete pure magari l'equip per il successivo però vabbè questi sono dettagli e modi di pensare per non parlare del fatto che se siete arrivati al 92 avete fatto la somma sommando tutti i livelli e l'ex fatta dal livello 1 al livello 92 la somma dei prossimi tre livelli è la stessa di quello che avete fatto finora quindi i prossimi tre livelli sono veramente tosti e per questo dico che è uno scoglio insomma insormontabile per certi versi atlantide e allora non trascurare l'alchimia penso che si riferisce al fatto di far marla nei vari modi che ci sta al fatto delle schegge il fatto dei viger 50 al fatto di poter fare pure le schegge con la missione delle schegge più se state over 110 e quindi ci si panno fai soldi ma soprattutto cosa importantissima regata non sottovaluta è ricarica l'alchimia perché se siete stronzi come me che giocate se state al pc e giocate state a try yard a un minimo e quindi di conseguenza probabilmente non state a fare schegge fare schegge vi servono comunque da fa perché dovete prima o poi dovete ricaricare l'alchimia mettere i punti a a caso su skill e status questo l'abbiamo già detto giustissimo cosa da non rifare purtroppo medine monodirezionale non ci stanno troppo c'è ci saranno due due grandi scuole quella de over andare in over danno possibilmente quella de s un po più safe quindi se siete sura per esempio fate full int e come statistiche e se invece siete primo pg quindi potreste incontrare delle difficoltà che conviene mette almeno un punto dei tre per ogni livello su la statistica di vita così aumenta difesa e aumenta anche gli hp insomma e allora pietrare le armi dal più del 30 già più 9 pure questo è un errore da non rifare perché effettivamente se l'avete già a prescindere se la volete girare o l'avete droppata già fatta quindi che ne so andate la ammazzate narciere pesce narciere brutale pesce la spada della luna piena 40 metri pure se pesce con metri bassi potreste se volete girarla se l'obiettivo è girarla già dietrarla da più zero così almeno non dovete usare il togli schegge dalla luna con gli up che andate a fare tra il più zero il più uno per esempio se ci stanno delle delle schegge se tolgono in automatico migliorando l'arma allora spendere uomini in baulidra questa dispiace ma la ludopatia che che ti porta via e non ci posso fare niente se sei un tipo ludopatico c'è gente che si mette i soldi in pg in villo 2 tipo sperduti senza cavalcatura e niente in modo tale che per andare prende i soldi ci perde tempo e così in modo tale da non sputtanarli ulteriormente e niente quindi si c'è ci può sta che ogni tanto si fa però se diciamo dipende da come giochi perché se vuoi progredire quindi migliorarti e quant'altro te lo sconsiglio di fa sta cosa però penso che sia pure giusto che uno ogni tanto prova a gioca insomma e fa ste cose perché alla fine se trovi le magiche ci guadagni te possono servire esorcismo oppure ti servono le magiche quindi ci può sta che le vai a apri però con verrebbe comprare e ottenere qualcosa di sicuro c'è chi dice come ultimo commento del primo blocco è oppare e girare io so un po so d'accordo col fatto che sia un errore perché effettivamente è più facile comprare quindi accumulare i soldi poi però se te li spendi e sei ludopatico è tutto un cavolo però oppare girare può essere scomodo è anche molto più soddisfacente riuscire a fare un item più 9 e quel brividino che come dico sempre è rimasto su me nonostante sono passati tutti sti anni e quindi ci può sta come non ci può sta perché se ottengono bei risultati ovviamente non è sempre detto che girando se scula perché c'è chi scula e chi no però avere una soddisfazione personale allora continuiamo continuiamo su item a cazzo che non ricevi rivenderai mai più al prezzo di acquisto beh tipo questo me posso permettere di che si è giusto però se compri item up che potrebbero essere utili per il sistema se vuoi far cose invece se parla dei item pezzi di equipaggiamento possono sempre torna utili tipo muovi faccio un esempio mettiamo caso che io giorno 21 06 compro un elmo da sura 20 zombie mettono l'anno prossimo un evento che può essere utile farmarlo in torre o in catacombe mi sono ritrovato sto elmo con 20 zombie quindi effettivamente se lo fai per far compravendita è sbagliato che è sì indubbiamente e sotto il punto di vista della compravendita vi consiglio sempre di studiare un po il mercato inevitabile io non so avvezzo alla compravendita non mi piace io io teniamo i soldi per comprarmi quello che mi serve comprato quello che mi serve rifarmi i soldi per comprarmi il prossimo oggetto o provare a comprarmi le cose per migliorarmi quello che già c'ho questa non l'ho ben capita però cioè ci tengo a ammetterla non premere accetta a nel senso penso che intende vendetta allora nel senso mettete ve lo leggo e poi ve lo spiego non premere accetta quando si fa vedere equip dopo pvp penso che vuole tra virgolette fregarlo e perché non penso che poi lui accetta al commercio tu mi fai vedere l'equip io ti faccio vendetta e ti ammazzo per far coglione forse però non so cosa intende però sorvoliamo toccare la moneta d'oro rotante quella che è in basso a sinistra per chi ancora non se ne fosse accorto in basso a sinistra c'è il tasto per scioppare vabbè sì è un grosso 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 errore però ci stanno certe cose che tipo il doppio drop secondo me è essenziale avercelo e anche il remunerativo se posso permettermi e andiamo avanti c'è chi dice proprio con gesto di stizza giocarci a metin quindi è un errore da non rifare giocare a metin io dico di no perché alla fine nella vostra esperienza penso che un minimo che ci siete divertiti avete fatto amicizia avete conosciuto gente fatti quattro risate mentre casseggiavate ci avete avuto il brividino dupate girate scula e quindi penso che allora è quest'altro è un'altra cosa un po che non so commentarla troppo perché non vi dico non fare un sura nero da rissa ma da pvp si può essere divertente potrebbe essere errore a quanto pare per dirlo però sinceramente non non lo vedo troppo come un errore effettivamente magari lo puoi fare si arriva sempre lo struzzo che ti uccide se sei la pvp perché magari stai a fa contro il ninja arriva al war e te via spada te mori però vabbè dei gusti bus io pvp ne faccio veramente poco non sprecare con testardaggine allora questo sì perché direi proprio che è un errore il prossimo è pesante il prossimo errore da non rifare perché certe volte vi intestardite sul fatto che dovete fare quell'oggetto più 9 oggi può essere che ci spendete un sacco di cose e poi alla fine della fiera manco a parte il fatto che non è detto che l'ho riuscito a fa ma può essere pure che non non ci rimediate niente insomma c'è andate solo sotto poi che vedevo di eccoci arrivati alla fine del video non posso che ringraziarti per essere arrivato fino qui ma purtroppo ti devo rimandare alla prossima settimana con la parte 2 del video perché diventava troppo lungo e credevo che nessuno lo guardava nell'interessa e quindi se anche tu hai dei degli errori fatti da non rifare se ti va commenta che sicuramente risponderò o se saranno veramente tanti farò un video apposito se no passa su instagram che comunque ci saranno nuovi format simili quindi ci vediamo su instagram ciao cari ciao cari